ahiaiai Comunque lei era la ragazza culo, quella a destra Anche il balconcino Sì sì è vero Laboratorio Engine O Tempio di Tiny Ma forse Ma c'è sempre Big Zell in partita Quindi Esatto Fino a che ero un rage quitta Io sono a posto Mamma mia Allora stavolta C'è ora che noi siamo in 4 contro 1 Esatto Che ha morte dal cielo Un po' ma l'aquila cazzo è mazzo Non ce l'hai Non le equipaggi Aquila dorata Se per caso dovessi vincere una partita online Mi va nell'obiettivo Il mio prossimo tatuaggio sarà quest'aquila Anzi proprio tutto questo kart è proprio fatto così Quindi facciamo vincere il bot? Praticamente E' per la partita E comunque io al posto di questa avrei quittata la prima partita Sì infatti Tipo ho capito qual è la tazza Anche perché dico Va bene una partita è andata male Ma tutte le partite dove ti bombardano No infatti Come va? Aspetta io c'ho la maschera Ok Io ho 3 miss Dov'è dov'è? Ok Ah è andato fuori di vista Buonanotte Aspetta Come no? Aspetta aspetta Boom Pesso di nuovo Ma io l'ho perso è dietro Picciotti minchia Ma vogliamo parlare del... Sì sì è settimo Vogliamo parlare del mondo Vogliamo parlare della mia cecchinata con la pozza Bam Minchia l'ho fatto cadere giusto lì E poi fai marci indietro proprio Sì l'ho visto Io c'ho il turbo lo voglio schiacciare Io ho altri due missili Dov'è dov'è? Dov'è? Ho tre missili voglio aspettare No scusa Ok Ho visto Questo mostro Ma poi ancora non sono reso conto che lo stiamo Braccando come un animale Proprio ora si è preso conto dopo che... Andiamo indietro Contromano Oddio Nooo Per fare cadere lui sono caduto io Dov'è? E' sesto E' sesto E' sesto Ok appena passa gli tiro due Comunque in tutto questo ci sono i bot che sono primissimi Sì Sì esatto Io ho tre missili di nuovo Ragazzi Legge quinta si Nooo E' bellissimo Che sto potendo No però che pare Applausi veramente Vicciotti La soddisfazione Bellissimo Bellissimo Nooo non è giusto E' il bello che tempo fa Tempo fa Avevo fatto un video tipo Come far rage quittare la gente Ma li avevo semplicemente Sorpassati all'ultima curva Questo è veramente Come far rage quittare la gente Esatto Bellissimo No 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 Non è ancora qua No no è il Il bot